Come fare a riscoprire la lettura in sei giornate? L'obiettivo è proprio quello di ridare centralità al libro, alla lettura e al luogo fisico che è la libreria. La libreria sempre di più è e deve diventare uno snodo di confronto, di dibattiti. In questi sei giorni l'idea è quella di fare di diverse librerie della città, perché sono otto quelle che hanno aderito a questo progetto, il cuore di una serie di incontri, presentazioni, dibattiti, conversazioni, con delle incursioni anche nel mondo del teatro, nel mondo dei video e anche della musica. Quindi partendo proprio dalla giornata mondiale del libro e dal recupero di una tradizione catalana, avere la possibilità di dare centralità alla lettura, al libro e alla libreria.